Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il tema sicuramente più scottante di queste ore, prima poi di parlare di quello che sarà il calcio giocato che mercoledì porterà la Juventus a giocare contro l'Ipsia, è chiaramente legato al filone d'inchiesta, d'indagini in merito alle curve di Milan e Inter, con un focus particolare sull'Inter. Non so se per un discorso legato al fatto che gli arresti hanno coinvolto alcuni esponenti importanti delle curve siano più dell'Inter che del Milan o forse perché probabilmente quello che sta uscendo dalle prime indagini coinvolge, fu in parte l'ESA o non, poi questo verrà in qualche modo confermato o meno, gli esponenti dell'Inter e per gli esponenti parlo di allenatori, dirigenti e così via. Del Milan si è letto veramente molto poco, se non che nei nomi girati di coloro che sono stati arrestati calcultrà di fatto, insomma figurano soprattutto nelle vicende quelli dell'Inter, quindi i vari personaggi che si sono interfacciati con Inzaghi di turno, il Marotta, il Zanetti di turno e così via. Ora è veramente, sono uscite come dire, nell'ultima giornata, nelle ultime 24-36 ore, molte notizie e si sommano un po' tutte, no? Tutto è molto ancora confuso, non si riesce a capire, no? Il quadro completo della situazione. Facendo un riassunto senza andare nel dettaglio per poi arrivare a quello che è il punto di questo video, in attesa di capire i dettagli e magari parlarne quello che sta succedendo, altro non è che quanto, simile ma non uguale. Successo alla curva della Juve, insomma ci sono dei loschi affari nella curva per qualche motivo vengono fuori, poi capiremo le differenze e a un certo punto non solo vengono fuori, nel senso che le procure stanno lavorando da tempo no? Non è che, voglio dire, ieri abbiano iniziato a lavorare e anche l'informazione si è uscita ieri, ma con un po' di tempo poi sono uscite per qualche motivo, che anche questo spesso mi sfugge, sono uscite pubblicamente le notizie stesse e anche alcune intercettazioni famose in primis quella famosa, quelle famose riferite a Simone Inzaghi. Questo è molto simile a quello che è successo a Juve perché fondamentalmente non ci stupisce il fatto che ci siano degli affari particolari nelle curve quindi è chiaro che da questo punto di vista non si stupisce il tema di per sé ci può stupire la tempistica, ma il tema no. Quindi nello schiaffare si dice che entrambe le curve siano coinvolte e come dire, ci sia in qualche modo, questa è la supposizione da parte di alcuni esponenti di entrambe le curve di Inter e Milan questa sorta di tregua di non belligeranza per fondamentalmente portare avanti i propri affari. quindi sapendo che entrambe le parti per un motivo o per l'altro hanno la possibilità e la volontà di portare avanti i affari hanno sempre avuto questo clima tra curva e molto tranquillo, tanto che non ci sono stati particolari scontri come dire tra tipologie per dire manteniamo un clima tranquillo e continuiamo a fare i nostri sporchi affari. Tra i sporchi affari si parla di quelli che sono i biglietti, è un classico e di questi biglietti sono spesso biglietti che questi esponenti avrebbero chiesto all'Inter, delle dirigenze di fatto, per poi rivendere a prezzi molto più cari, quindi guadagnarci, parcheggi, gestione dei parcheggi, quindi anche con un business importante quando parliamo di uno stadio che può contenere 80 mila persone, bibite e non bibite con tutta la parte anche fondamentalmente del merchandising esterno eccetera eccetera. Poi si sa che quando si parla di queste cose qua c'è sempre un po' di droga che passa qua e là e come sempre si può supporre che ci possa essere anche questo che è il vero business forse che riguarda la malavita. Questo è fondamentalmente il tema, di fatto si disaggiunge anche secondo le prime ricostruzioni che tutti questi soldi servirebbero anche a ripagare le spese legali che molti esponenti hanno per reati di vario tipo che hanno commesso e che quindi grazie a questi introiti fatti in modo particolare avrebbero poi ripagato le spese legali di gente che sta in carcere per n motivi tra cui risse e quant'altro. Adesso non stiamo neanche a dilungarci troppo. Ripeto, come detto prima, questa è la classica cosa che tutti sa, è il segreto di pulcinella, tutti lo sanno però si fa finta di niente. Io penso che per molti decenni si sia fatto finta di niente fino a che in qualche modo sono subentrati come dire i cellulari, le chiamate, i messaggi, i whatsapp. La mole di informazioni e di capacità di comunicare tra le parti ha dato anche molto materiale agli inquirenti che con le intercettazioni, in primis telefoniche ma probabilmente non solo, questo chiaramente per fortuna non c'è stato dato a sapere, hanno iniziato un'indagine, quindi è stato dato il via alle procure di indagare. Ora, il tema è anche quello che poi di fatto venne fuori al tempo con il discorso Juve, è il doppio pesismo che si fa rispetto a quello che esce. Allora, premessa, il fatto che esca qualcosa sui giornali è grave di per sé, perché qua non parliamo di un'indagine chiusa, parliamo di un'indagine in corso che ha portato a degli arresti appena ieri, l'altro ieri, negli ultimi giorni. Quindi, da questo punto di vista, il fatto che qualcuno della carta stampata sappia e possa soprattutto pubblicare intercettazioni è molto grave, per un semplice motivo, perché le intercettazioni così come vengono pubblicate, decontestualizzate, scritte, trascritte, pezzi sì, pezzi no, è il classico modo per non informare, perché fondamentalmente quando io leggo quella cosa là, interpreto un po' monomio, un po' legato a antipatie e simpatie verso la persona che è coinvolta, un po' banalmente legato al fatto che la mia violenza sul tema mi porta a non avere il quadro completo della situazione, cosa che i linguireni stanno ricostruendo. Poi, di fatto, ci potrebbe essere anche un processo che va ulteriormente a ricostruire la situazione con le varie condanne e quant'altro, quindi le sentenze, meglio dire. Quindi, da questo punto di vista, la premessa è grave di per sé. Il doppio pesismo sta su quello che è il discorso mediatico e anche le risposte dei tifosi. La Juventus, ricordiamo che è qui, c'è la prima differenza che porta i due casi a essere simili ma non uguali. La Juventus, gli esponenti della Juventus, la Marotta, che in questo caso è un po' strano, come vincente, ma Agnelli e compagnia cantante al tempo avevano denunciato agli inquirenti la possibilità che c'erano delle pressioni particolari da parte di alcuni esponenti della curva della Juve. Pressioni simili, biglietti, queste cose qua. Le denunce non vengono accolte, o meglio, forse sì, forse no, altrimenti gli indagini non sarebbero proseguite. È stato il fatto che poi il doppio pesismo mediatico venne fuori qua, venne fuori adesso, nel momento in cui, inizialmente, Agnelli e compagnia cantante vengono visti come dei collusi con la mafia, con l'andrangheta. Adesso, invece, si parte già col presupposto. Ok, la parte lese è chiaramente l'Inter e i suoi dipendenti, e quindi il problema è chiaramente le curve. Qui il problema è lo stesso, cioè non c'è, secondo me, una differenza di casistiche, se non per alcune cose che poi magari andrò a dirvi. Quanto piuttosto che, di fatto, sembrerebbe che la Juventus prima fosse collusa con l'andrangheta, e invece l'Inter e il Milan sono semplicemente parte lese. La realtà è che probabilmente l'Inter e il Milan sono vittime, parte lese di questa faccenda, la certezza è che la Juventus è la parte lese e vittima, così come Agnelli e quant'altro. Ma ricorderete che al tempo, non tanto il processo ordinario quanto quello sportivo, non ebbe dubbi sul fatto che Agnelli e compagni fossero praticamente dei pochi di buono. E appunto per questo il processo mediatico e sportivo che venne fatto al tempo, al di là di quello che poi è la sentenza definitiva che vede Agnelli come vittima di tutto ciò, per l'immaginario, per l'opinione pubblica, noi siamo dei collusi con la mafia. Adesso, chiaramente, un po' forse anche forti di quello che è stata l'esperienza precedente, un po' forti del fatto che la Juventus è antipattica e le altre no, si sta propendendo verso la direzione del parte lese inter e il Milan, e il resto, chiaramente, gli stronzi, come sempre, giustamente, sono gli sultra e quelli collusi in particolare con l'andrangheta. Detto questo, l'altro problema è questo, che al tempo Juventus, chi per esso, denunciò il fatto, cosa che non emerge rispetto alle persone che fanno riferimento all'Inter. L'Inter non ha denunciato, quando si legge fino ad ora poi si vedrà alcun tipo di pressione esterna. Sul Milan si dice che ci sono state la Visaglia, ecco perché forse il Milan in questo momento è quello meno considerato, ma sull'Inter, differentemente da quanto fatto al tempo dalle Juve, non c'è questo tipo, non c'è stato questo tipo di denuncia. E questo fa tutta la differenza. Ecco perché il doppiovesismo mediatico fa ancora più ridere, perché il doppiovesismo mediatico mette sul piedistallo una società che non è nemmeno denunciato. Poi posso anche essere d'accordo con il fatto che sia difficile denunciare chi fa pressioni, chi fa minacce, o qualcosa del genere. E mette, butta nella mischia, eccetera, eccetera, chi invece è denunciato. E quindi ha detto, io ho delle pressioni, voglio, chiedo aiuto a chi può darmi aiuto. Anche perché parliamo non di delinquenza solo minore, ma di delinquenza che ha chiaramente delle, come dire, delle influenze da parte di una organizzazione di stampo mafioso, che quindi chiaramente fa un po' tremare tutte le persone. Per bene, però, i motivi. Quindi questo doppiovesismo fa ridere, infatti in questi giorni il filone si sta andando in quella direzione di evidenziare come l'Inter si è parte l'ESA, il che mi andrebbe bene se non fosse altro che prima non è stato fatto con noi. Tra l'altro poi, non vorrei neanche, lo menziono, ma si dite per non piangere, quello che è la considerazione dell'evento da parte della Gazzetta dello Sport. Tra le tante intercettazioni che sono uscite, si dice che uno degli esponenti, i più noti di questi menzionati, della curva dell'Inter, avrebbe avuto contatti con un giornalista della Gazzetta, in qualche modo dettando la linea giornalistica da adottare. La Gazzetta, nella giornata del 30 settembre, non ha messo di mezzo link su Twitter, per dire cosa che invece in questi minuti, a ora di pranzo, sta facendo, sta sparando una miriade di informazioni, secondo me anche un po' filtrate, non le ho lette, ma ho qualche dubbio, appunto perché, e questo va un po' a confermare, come è detto, che la Gazzetta sia influenzata da tifo, ecco, diciamo che sta prendendo molto piede. Questa cosa qua poi va sempre, come dire, a evidenziare quello che è il danno che l'informazione italiana sportiva fa al paese, perché poi le notizie vanno filtrato un po' in base alle simpatie. Tra l'altro, se guardate la prima pagina del primo ottobre della Gazzetta, il discorso legato appunto al tema in questione è un trafiletto sopra la prima pagina, in cui fondamentalmente la prima pagina è dedicata a due giocatori dell'Inter, del Milan, del Derby, insomma fondamentalmente notizie del Cacchio, cioè che non ce ne frega niente, quando al tempo sicuramente non ho controllato, ma voglio dire sicuramente una prima pagina con la Juventus e Agnelli, sbattuti in prima pagina come dei pentiti in mafia, ecco, sicuramente c'è stata. Quindi questo anche per definire il doppio pesismo. E poi il doppio pesismo non si vede sui social, i tifosi ne ho ubicati molti che chiaramente dicono eh, ma noi non bisogna mai partire col preconcetto, eccetera, eccetera, bisogna sempre lasciare fare il corso alla giustizia, parte lese, eccetera, eccetera, quando al tempo gli stessi dissero che Agnelli e Gompany erano praticamente decolusi con la mafia. E non parlo solo i giornalisti, i nazigliani, parlo anche i tifosi comuni. Quindi il doppio pesismo mediatico nella sua generalità è abbastanza evidente. Andando un po' nei dettagli, quello che sta emergendo è che ci sono dei contatti tra Inzaghi e uno di questi esponenti, con non tanto delle pressioni ma anche delle minacce velate da parte di uno di questi, più o meno velate da parte di questi esponenti. C'è il ruolo di Marotta, stanno uscendo qualcosa sul ruolo di Zanetti, qui è ancora tutto molto fumoso. Io al tempo, ma anche adesso, anche adesso, che si parla di Inter e di Milan, sono dell'idea che intanto la criminalità è sempre colpevole qualcosa, nel senso che a prescindere da quelli che saranno i processi, ma di fatto tutto ciò che orbita intorno alla criminalità è sicuramente sbagliato. E spesso non è facile, come dire, è molto scontato che ci possano essere episodi di conversazioni tra le parti, anche per paura da parte delle persone per bene, come posso pensare sia inzaghi, per paura di ritorsioni, minacce e quant'altro. Detto questo, però, lasciamo fare la giustizia del suo corso, e in un senso esprime il giudizio adesso, anche perché le informazioni che abbiamo noi sono talmente poche, frammentarie e filtrate spesso dalla simpatia e antipatia, che dare adesso dei giudizi è imbarazzante. Io, dovessi dare un'opinione così, su quello che ho letto, è chiaro che la situazione sia molto simile a quella data dovuta, che noi avevamo subito qualche tempo fa, con la differenza che c'è di mezzo un processo mediatico diverso, e quindi anche noi siamo in qualche modo condizionati da questo, con la differenza che la Juventus al tempo va denunciato e l'Inter, a quanto pare, no. Quindi questa è una cosa importante che deve anche, eventualmente, in futuro dare peso al nostro giudizio. E con considerazione del fatto che in entrambe le situazioni, Marotta era dirigente dell'eventus prima e dell'Inter dopo, e da quanto traspare l'azione che ha fatto Marotta al tempo è diversa da quella che ha fatto ultimamente. All'Inter non ci sarebbe alcun tipo di, come dire, denuncia o quant'altro, al tempo la Juve era chiaramente parte integrante di un sistema che ha denunciato. Sappiamo che poi Marotta è andato via dalla Juventus, per motivi, chiaramente, che poi non ci sono mai stati ufficializzati. Qualcuno ipotizza che uno dei motivi, o il motivo per cui Marotta è stato allontanato, sia stata un'accesa discussione con esponenti con cui non dovrebbe più discutere. Sono supposizioni, non c'è mai stata conferma. Di fatto Marotta non è mai stato indagato o quant'altro. Quindi queste sono supposizioni che spesso girano nel web, che in questo caso potrebbe essere che verranno in qualche modo vagliate degli inquirenti, perché poi per ora nel registro di indagati non ci sono gli esponenti dell'Inter. Giustamente direi, perché io penso fino in fondo che le squadre siano succubi delle tiposerie. Qui si potrebbe aprire chiaramente un discorso su quanto la tifosi organizzata così come la conosciamo adesso sia utile a questo sistema calcio, di come forse sarebbe ora di fare veramente tabula rasa e fare pulizia di questi tifosi che non fanno sicuramente nel bene del calcio, ma soprattutto fanno, hanno molto lavoro extra ai club, che si trovano spesso incastati in situazioni che sono più grandi di loro. Perché da una parte io capisco che quando c'è qualcosa di potenzialmente cattivo va denunciato, tra il volerlo fare e il farlo c'è di mezzo al mare, perché non spesso le denunce né vengono accolte né sono portatrici di sicurezza da parte di chi denuncia. Non è che nel momento zero in cui denuncio magicamente ho una scorta per me. Spesso la denuncia arriva come una sorta di affronto da parte delle vittime nei confronti dei criminali e quindi può portare a problemi ulteriori, alle famiglie eccetera eccetera. Quindi non mi sento neanche troppo, come dire, da parte di chi dice che se avessero avuto in caso di problemi si bisogna denunciare. La denuncia è sempre chiaramente correlata al coraggio anche di esporsi e non tutti ce l'hanno. Al tempo Agnelli lo ebbe, Agnelli e anche Agnelli, quindi diciamo che da quel punto di vista Agnelli faceva la cosa giusta e lo faceva coraggiosamente. Però da lì abbiamo visto come la sua carriera si ha lentamente, si segna abbissata e quindi da una parte uno dice ma chi me lo fa fare cerco di tenere buoni rapporti così e speriamo che non mi becchino. Qui veramente apriamo veramente un discorso che è meglio non portare avanti adesso, soprattutto perché non sappiamo benissimo come sono state le cose, ripeto, lasciamo lavorare gli inquirenti sperando che i giornali facciano il lavoro in modo corretto, se ci sarà un processo ci sarà un processo e a un certo punto arriveremo nelle sentenze. Le sentenze sono la verità assoluta che ci farà capire finalmente il 100% del caso. Però ora concentriamoci come tema di discussione anche rispetto a quello che vi chiedo di esporre nei commenti sul tema del doppio pesismo che è il vero problema di questa società, cioè calcistica perlomeno, di questa società come ambiente calcio, infatti da pesi diversi a cose molto simili in base alle simpatie, antipatia, i tifi e non i tifi. Questo è un vero problema perché poi ne va dell'informazione anche di quella che si chiama tanto decantata libertà di stampa che quanto pare in questi giorni si è più focalizzata sul parlare di auto ibride che sul parlare di cronaca reale. Detto questo commenti qui sotto come sempre a Forza Juve e alla prossima. Ciao!